Cosimo Forgione, capitano del Chiete, siete tornati a successo, un trist, avete calato il trist contro un Termoli, squadra di categoria, però insomma già nel primo tempo avete messo in chiaro le cose, almeno questo pomeriggio. Oggi è stata una grande risposta, abbiamo dato valore ai tre pareggi che abbiamo fatto prima perché comunque meritavamo qualche punto in più, però il gioco c'è stato e quindi oggi abbiamo dato una grande risposta. Siete lì in cima insieme a Terramo e San Benedettese, avete consolidato il vostro primo posto? No, ma io te l'ho detto anche l'altra volta, non guardo la classifica perché questo campionato l'ho fatto, ho anche vinto, quindi so che ci vuole tanto per vincerlo, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra, guardare partita dopo partita, adesso ricarichiamo le pire, pensiamo subito al Sora e non pensiamo sempre al dopo. In sede di presentazione della gara il vostro tecnico Ignoffo aveva chiesto concretezza e determinazione, credo che oggi lo avete accontentato. Sì, ma noi stiamo lavorando, siamo un gruppo nuovo, non dimentichiamo che siamo partiti tardissimo, quindi stiamo creando tante occasioni di gol da gol, prima o poi arrivava questa bella vittoria, quindi noi siamo convinti di quello che facciamo durante la settimana, lavoriamo testa bassa con l'allenatore, le sue idee e quindi cerchiamo di metterli in pratica la domenica. Il vicecapitano Fall, due reti, ha raggiunto quota 5. Ma io ho tanti anni che gioco con Amet, quindi lo conosco bene, so le sue caratteristiche, so che il gol ha sempre fatti, quindi deve stare sereno che noi lo appoggiamo. Settimana prossima si torna in trasferta a Sora, oggi è Sora che ha perso, insomma che gara così, anche se siamo ancora a caldo, ti aspetti? Ma sì, ma tutte le gare saranno difficili, vedi comunque l'Avezzano che è andato a vincere a San Benedetto, qualsiasi partita sarà difficile, dobbiamo affrontarla con il piglio giusto, sempre con umiltà e quindi sappiamo di essere una grande squadra all'interno e dobbiamo stare sempre con i piedi per terra.